L'incubo della VL è realtà a Pesaro, retrocede in A2 dopo 16 stagioni. 21enne di Piobico trovato senza vita a Vienna, ignare le cause del decesso. Lanzi presenta il suo programma elettorale, turismo e cultura ai suoi punti cardine. Frenco e Luci risponde alla Perrici, accuse su di me completamente infondate. 8 uomini, 8 donne, Ucchielli presenta la sua lista per riconfermarsi sindaco di Vallefoglia. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è lunedì 6 maggio, apriamo questa edizione in via del tutto eccezionale parlando di sport, perché quella di ieri verrà ricordata sicuramente come una delle pagine più brutte della palacanestro pesarese. La VL dopo ben 16 stagioni è retrocessa in serie A2. A Venezia arriva una sconfitta, ma l'esito finale della stagione non sarebbe stato diverso, nemmeno in caso di successo. Tanti punti domanda sul futuro, ma la società ha ribadito la volontà di risalire subito nella massima serie. Vediamo il servizio. Ora lo si può dire per davvero. Il peggiore incubo della VL è diventato realtà. Il 5 maggio 2024 verrà ricordata come una delle pagine più buie della storia della palacanestro pesarese, con i biancorossi che dopo ben 16 stagioni dicono nuovamente addio alla serie cadetta, ufficializzando la propria retrocessione in serie A2. Per dovere di cronaca, Pesaro non ne retrocedeva sulle campo da quasi 30 anni, visto che quello che successe nel lontano 2005 fu una storia diversa. Sulle campo veneziano la VL resta in partita per due quarti di gioco, riuscendo a chiudere avanti di due lunghezze la pausa lunga, ma nel terzo quarto la squadra di Sacchetti scompare dal campo. Un parziale di 35-11 nel favore dei Veneti spazza via le ultime possibilità dei biancorossi di salutare la serie A, almeno con una vittoria. Un successo che ai fini dell'esito finale della stagione non avrebbe cambiato nulla, controviso che, vittoriosi in casa contro Tortona, avrebbe comunque condannato Pesaro alla retrocessione. La VL dice addio alla serie A dopo una stagione iniziata con degli alti e bassi, ma che poi dalla metà di dicembre in poi ha visto precipitare con una serie di sconfitte. Una stagione di grandi cambiamenti, dall'addio dopo poche settimane di Schilling, il pivot tedesco che per problemi fisici a Pesaro non è mai riuscito a dare il suo contributo, passando per il lettaglio di McCallum e alle cambine panchina con l'arrivo di Sacchetti e l'esannora di Buscaglia. Mochevicius, Cinciarini, McDuffie, Foreman e per ultimo Ludon Love sono ben cinque i giocatori che la società biancorossa ha provato ad inserire nel corso della stagione, ma tutti i tentativi di rimettere sulla rotta la barca non sono mai andati a buon fine. Una barca che durante il leggerone di ritorno ha provato a dare dei segnali, come nelle vittorie con Brescia e Bologna, ma che poi, prontamente la partita dopo, ritornava sui propri errori senza dare continuità. Nelle ultime settimane qualcosa di diverso in campo lo si era pure visto nei successi con Sassari, Pestoia e Cremona, ma le tempistiche, unite ai capoine, trasferta a Treviso e Tortona, non hanno potuto evitare la retrocessione. Alla sirena finale di ieri, Cinciarini e Visconti sono stati tra i primi nei lacrime sotto la curva di numerosi tifosi accorsi anche a Venezia e che non hanno mai smesso di incitare la squadra. Un etifo da cui ora dovrà ripartire la risalita della VL. La società biancorossa ha subito voluto diramare un comunicato dove si ribadisce la ferria volontà di risalire subito nella massima serie. La certezza ad oggi però è solamente una. Sarà una lunga estate sia per la dirigenza che per tutto il pubblico biancorosso. Ed ora cambiamo argomento. Un giovane di 21 anni originario di Piobbico è stato trovato senza vita sabato nelle prime ore del mattino a Vienna. Le cause del decesso sono ancora poco chiare. La tragedia che ha coinvolto la famiglia di Javier Granci, il giovane che alcuni mesi fa era partito nella capitale austriaca per cercare lavoro dopo il diploma che aveva conseguito all'istituto alberghiero di Piobbico. Il ragazzo aveva raggiunto il fratello Luigi già nella capitale austriaca da alcuni mesi con la speranza di poter trovare un'occasione lavorativa in linea con i propri studi e i propri interessi. Ed è stato proprio il fratello ad essere avvisato per primo dagli inquirenti austriaci che sono risaliti alla sua identità grazie ai documenti che il giovane aveva addosso. Il ragazzo è stato ritrovato senza vita in prossimità di un ponte ma non si conosce l'esatta causa della morte e di come sia avvenuta. Fumo e fiamme per un container che ha preso fuoco domenica sera nella zona industriale di Pesaro. I vigili del fuoco sono intervenuti infatti intorno alle 23 circa presso una ditta della zona per un incendio di materiale di scarto contenuto all'interno di un container. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha subito spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l'area dell'intervento. E continuiamo a parlare di cronaca perché nella notte tra venerdì e sabato un sedicenne è caduto dal tetto di un edificio in disuso a Torrette di Fano ed è stato trasportato d'urgenza agli ospedali riuniti di Ancona dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione. Il minore si trovava sul tetto dello stabile insieme ad un coetaneo quando una porzione della superficie ha ceduto facendolo precipitare in un volo di oltre 4 metri. Il giovane non è in pericolo di vita anche se il bollettino medico parla di diverse fratture scomposte. Sul posto è stato chiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco per recuperare il ferito e consegnarlo alle cure del 118. Dalla ricostruzione dei carabinieri di Fano sembrerebbe trattarsi di una ragazzata che però avrebbe potuto avere un epilogo ancora più drammatico. E ha del miracoloso la disavventura di un motociclista di 37 anni nella mattinata di ieri, domenica 5 maggio. Un centauro ha infatti perso il controllo della Aprilia su cui viaggiava ha sfondato il guardrail ed è volato nel tetto del fiume che scorre al di sotto del livello della strada. Un salto di circa 20 metri nel quale non ha praticamente riportato nessuna ferita. È successo a Piobbico, più precisamente in località Madonna del Tinaccio, protagonista del rocambolesco incidente, un motociclista originario di Urbino ma residente a Senigallia. Sul posto sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco di Cagli e l'ambulanza del 118 di Urbania. Il motociclista è stato poi preso in carico dall'egliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette. Il 37enne comunque, durante le operazioni, è rimasto sempre cosciente. Ed ora passiamo alla politica. Continua la marcia di avvicinamento alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno per il candidato a sindaco di Pesaro del centrodestra, Marco Lanzi, che questo fine settimana presso l'hotel Cruiser di Pesaro ha presentato il suo programma elettorale. Vediamo. Sala Grimita, sabato mattina all'hotel Charlie di Pesaro per la presentazione del programma elettorale di Marco Lanzi, candidato a sindaco per il centrodestra. Un programma targato Pesaro Svolta che punta alla pianificazione con due temi ben centrali, turismo e cultura. Abbiamo dei punti ben definiti. Io adesso, in maniera sintetica, ve ne annuncio due che poi sono molto collegati fra di loro, la cultura e il turismo. E' paradossale, è vero, parlare adesso, dire, portiamo avanti un programma sull'ocultura quando Pesaro è capitale della cultura. Ma io faccio una domanda ai cittadini. Quando finirà quest'anno Pesaro è capitale della cultura, cosa rimarrà nella nostra città? Una biosfera? Dove la metteremo quella biosfera? Degli alberi che camminano? Una torre panoramica? Questo ci rimarrà? Ci rimarrà per caso invece un museo? Avremo a disposizione un museo dove portare tutto l'anno o comunque fare degli eventi, far vedere, programmare delle mostre? No, non ci rimarrà niente di tutto questo. Poi parliamo di turismo. Turismo? Turismo noi sappiamo benissimo. Guardate, invito tutti i cittadini ad andare su Google, a digitare città turistica. Pesaro non viene fuori, perché Pesaro non è considerata una città turistica. La nostra è una città che vive di turismo due o tre mesi l'anno. Non è possibile, non è possibile. Anche questo è qualcosa veramente molto connesso anche alla cultura. Perché lasciamo veramente decadere dei monumenti bellissimi come Rocca Costanza? Io che sono di Milano mi viene in mente come se Milano in qualche modo facesse decadere un monumento storico che attrae migliaia di turisti tutto l'anno come il Castello Sforzesco, gli Orti Giugli. Ma sono tantissimi gli esempi. Noi veramente potremmo dare una svolta, una nuova vita alla nostra città. Ma poi il turismo non è soltanto cercare veramente di riprendere in mano questi monumenti storici, culturali della nostra città. Significa anche fare rete con Fano, Rubino, con il nostro meraviglioso entroterra. Fare dei percorsi enogastronomici. Rendere vita, viva veramente la nostra città 360 giorni l'anno e non soltanto due mesi. Veramente in questo modo potremmo dare una vera svolta alla nostra città. La decisione del Consiglio Comunale di approvare l'aumento della Tari non è piaciuta affatto agli esponenti della lista civica. Vieni oltre che sabato mattina, presso il Campo di Marte di Baia Flaminia, hanno organizzato un sit-in di protesta. Vediamo. L'approvazione in Consiglio Comunale dell'aumento della Tari continua a tenere banche o a provocare proteste nelle territori pesarese. Sabato mattina alcuni esponenti della lista civica Vieni oltre hanno anche loro voluto manifestare il disaccordo in merito a questo aumento della tassa dei rifiuti. Non siamo d'accordo perché Pesaro è una delle città con la Tari più alta di tutte le marche perché è assolutamente falso che non si possano contenere i costi. Infatti la vicina Fano ha utilizzato le entrate prese dalle evasioni per abbassare i costi in bolletta, cosa che a Pesaro non viene assolutamente fatta. Il fatto è che le persone purtroppo stanno subendo pressioni da tutte le parti. Io stessa per aver detto che il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente all'unanimità o subito delle minacce telefoniche tramite messaggi. Quindi la gente oggi ha anche paura di parlare. La dimostrazione è data da un Consiglio Comunale che purtroppo ormai comanda da oltre 75 anni, 10, l'ultimo Consiglio Comunale. Io ho detto a più riprese che abbiamo scoperto anche delle vicende su appalti loschi di consiglieri comunali che con le loro attività, con le loro aziende si sono affidati direttamente all'incarico di appalti in violazione di tutte le norme ma queste notizie vengono messe a tacere da tutti. Secondo il candidato sindaco Pio Perrizzi esisterebbero però alcuni semplici modi per ridurre e contenere l'aumento della Tari. Uno, utilizzare tutte le evasioni, quindi tutti gli incassi dalle evasioni. Due, utilizzare quella parte di utile che viene distribuito da Marche Multiservizi al Comune di Pesaro per la proprietà della sua quota che è pari quasi al 26% per aiutare le famiglie, per aiutare e contenere i costi in bolletta. È semplice, basta fare meno cassa e più amministrazione della città. E ha fatto clamore la nota stampa diffusa questo fine settimana dalla candidata a sindaco di Pesaro Pia Perricci e allora dopo questo comunicato stampa ha voluto dare la sua spiegazione o comunque le sue precisazioni ai nostri microfoni l'assessore Francesca Frenquellucci. Sentiamola. Assessore Francesca Frenquellucci, replichiamo alle accuse che sono state rivolte al Movimento 5 Stelle, alla persona di Francesca Frenquellucci, dall'Avvocato Pia Perricci che è candidato sindaco. Che accuse le sono state rivolte e come si muoverà l'assessore? Riguardano degli appalti del comune di Pesaro, del quale anche il mio assessorato non ci ha neanche lavorato, quindi sono accuse infondate che mi collegano a dei personaggi della città di Pesaro che non sono né miei parenti, né amici, né conoscenti e che quindi non ho a che fare. Ho dato in mano tutto al mio avvocato, anche perché io in questi anni, come ho già scritto nel post su Facebook, mi sono comportata in modo molto trasparente, anche perché comunque è una linea che il Movimento 5 Stelle vuole portare all'interno delle amministrazioni, però devo dire che anche all'interno di questa amministrazione non ho mai visto cose che potevano far pensare qualcosa che non funzionava. Poi è chiaro, queste decisioni vengono prese molte volte anche dai dirigenti, cioè nel senso che c'è una gara d'appalto e poi il dirigente che decide fa l'atto, infatti anche per questo lo firma. Quindi quello che a me fa strano e mi dispiace è che non è il giusto modo di fare politica durante una campagna elettorale, perché mi viene anche spontaneo dire ma in tutti questi anni, questi controlli, questi che arrivano a un mese dalle elezioni e cominciano tutti questi esposti, dove erano? Cioè questi cittadini che tanto tengono la città di Pesaro mi dà la sensazione che viene solamente fatta la strumentalizzazione perché c'è la campagna elettorale, anche perché se fosse una cosa così grave io farei una denuncia immediata, non faccio un esposto, perché l'esposto rimane, parte un'indagine e nel frattempo finisce la campagna elettorale. Però nel momento della campagna elettorale, nei 30 giorni, intanto esce la notizia. Perché poi in questo esposto c'è scritto molto chiaramente che non sono neanche sicuri della mia persona, ma quello che noto però intanto è il giornale stato mandato alle testate giornalistiche, a voi della tv, alle radio e quindi tutto questo mi dispiace. Io sono molto serena e tranquilla, però questo non è il modo giusto di fare politica. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anche tra di noi non riusciamo a capire le accuse che vengono dette anche sabato alle sit-in che hanno fatto la Baia Flaminia, anche perché a me non risulta che ci siano state minacce. Da parte mia la signora Perricci non la conosco, non ci ho mai parlato e non neanche mai messaggiato. Ci siamo confrontati anche tra di noi 5 Stelle per capire se qualcuno, da quello che mi risulta, non ci sono state nessun tipo di minacce. Quindi anche questo lo trovo sempre un modo un po' non troppo corretto di fare campagna elettorale. Bisogna fare le proposte ai cittadini, bisogna avere delle idee, è una visione. A Pesaro nasce la Musicoteca dei Piccoli. Inaugura domenica 12 maggio il progetto di Pesaro 2024 dedicato all'educazione sonora e musicale 0-6 anni che trova sede in uno spazio inclusivo pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della musica. Dopo quello di maggio saranno altri quattro appuntamenti tutti sabati pomeriggio, 8 giugno, 7 settembre, 5 ottobre, 9 novembre. Il progetto ha preso forma nella sezione della Natura Operosa della Cultura, uno spazio che ha trovato la sua sede presso il Giardino di Santa Maria. Domenica 12 maggio Playlist Pesaro rassegna della Capitale Italiana della Cultura giunta alla decima edizione, torna alla Chiesa dell'Annunziata con il primo coraggioso progetto che reinventa la musica degli Area dal titolo Maledetti Area Music degli eclettici chitarristi e elettrici Enrico Merlin e Valerio Scrignoli in collaborazione con Casa Bucci. Informazioni e prevendite presso il Teatro Rossini e le biglietterie circuito Amat Viva Ticket online. Biglietteria alla Chiesa dell'Annunziata il giorno stesso del concerto alle ore 20. E torniamo a parlare di politica, questa volta andiamo a Vallefoglia. Confermata la candidatura a sindaco per Palmiro Ucchielli, è stato il momento quindi di formalizzare anche la lista di candidati che lo accompagneranno nella corsa alla carica di primo cittadino di Vallefoglia alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Oggi presentiamo una lista, la prossima settimana siamo in grado di presentare il programma che va legato al simbolo, il simbolo è quello dietro le mie spalle, Democratici Civici di Vallefoglia. Io ho dato la disponibilità ad essere ricandidato, perché ancora dicono che non sono ricandidato, io sono candidato per una lista che posso votare tutti. Tanti elettori di centrodestra, di elettori cittadini comunque di Vallefoglia mi hanno chiesto di ricandidarmi per continuare un lavoro che è stato un lavoro importante, perché su Vallefoglia noi abbiamo concentrato le risorse sulle scuole, sugli impianti sportivi. Le caratteristiche della lista, 8 donne, tutte sveglie, toste, professioni radicate nel territorio, coprono le frazioni, insomma è una bella lista, 7 persone nuove, un uomo e 6 donne, 6 donne che si aggiungono, le 2 che c'erano già nella precedente amministrazione, quindi 8 donne e 8 uomini. Con caratteristiche di governo, con legami, con le strutture scolastiche, con le professioni, con i territori, perché ognuno di questi 17 candidati hanno anche un rapporto territoriale. Quindi è una bella lista, una lista forte di governo, perché bisogna continuare a governare se i cittadini lo vorranno e pensiamo che possiamo servire per i prossimi 5 anni a dare ancora più forza a Vallefoglia, Vallefoglia è la terza città della provincia di Pesero Urbino, dopo Pesero e Fano, e anche un rapporto forte con Pesero Urbino. Pensiamo noi al centro, una città che ha una caratteristica industriale forte e con una controtendenza anche nelle nascite, cosa pensiamo per il futuro? Pensiamo che le politiche attive per il lavoro vanno rafforzate, le politiche sociosanitarie vanno rafforzate, vanno rafforzate anche le infrastrutture, lo Stato e la Regione devono mettere più soldi per la modernizzazione del sistema aviario, va fatta una politica più forte a parte del Ministero degli Interni sulla sicurezza di un territorio, questo è un territorio ricchissimo, pieno di imprese e che occorre anche più sicurezza. E chiudiamo con lo sport, andiamo un po' distante da Pesero, esattamente a Rimini, l'Italia ha continuato infatti a brillare anche nel pomeriggio della giornata conclusiva dei campionati europei 2024 di ginnastica artistica femminile, dedicata alla finale a squadre senior. I campionati europei femminili di Rimini 2024 hanno fatto registrare oltre 13.000 presenze in quattro giorni, 4.250 sabato, 4 maggio e 4.650 ieri con il tutto esaurito. Le azzurre Manila Esposito, Alice D'Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli, con il sostegno di Asia D'Amato a bordo pedana, hanno vinto il titolo europeo davanti al pubblico di casa, migliorando la piazza d'onore di Antalia 2023. Nel secondo gradino del podio è salita la Gran Bretagna, mentre il bronzo è andato alla Francia. Quest'ultimo successo ha chiuso un europeo stellare per l'Italia, che ha portato a casa ben otto medaglie senior, quattro ori, due argenti, un bronzo e altrettante junior. La ginnastica italiana, contando anche gli otto piazzamenti maschili, conclude le rassegne con un bottino di 24 medaglie. E allora davvero complimenti a tutta l'organizzazione, che è tra l'altro di un'azienda pesarese Esatur, che ha portato avanti tutta l'organizzazione di questi importanti campionati di ginnastica artistica. Noi chiudiamo qui la nostra edizione del telegiornale, ma restate con noi perché questa sera tornano tante cose su Rossini TV. E allora andiamo a vedere che appunto oggi, subito dopo questa prima edizione, trovate un nuovo spazio dedicato alla natura della cultura. Un'informazione, un contenuto appunto che è relativo a Pesaro 2024. E poi alle 21.20, la nostra prima serata del lunedì dedicata alla medicina, c'è capo obiettivo salute, avremo questa sera Enrica Maffei, che ci parlerà di radiologia e cardiologia, una perfetta sinergia. E poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa, mi raccomando, puntuali 7.20. Siamo in diretta sul canale 80, in diretta sul nostro sito internet Rossini TV.it e anche sulla nostra pagina Facebook. E adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Io vi auguro una buona serata.